Era una comune giornata su caldera, stavo mirando il ricercato per farmi considerare anche io cheater, per avere qualche volta una botta di culo, infatti lo stavo mirando attraverso le foglie, sparando qualche noscope, ma quando capì che era inutile, perché tanto non l'avrei mai preso nella mia vita, mi accorsi di un piccolo elicottero dietro di me, infatti, iniziai subito a mirarlo, e quando iniziai a vederlo, lo hittai, e lo rittai venti volte, ma quando mi girarono i coglioni, al livello giusto come dal mio maestro insegnato, Ovvero Sly, riuscì a tirare una stecca dritta in bocca e farlo cadere come un uccello senza ali